Solar ha inserito qualcosa all'interno del tempio, qualcosa di molto maledetto, e questo è un video pericoloso, perché questa avventura sta diventando sempre più paurosa. Ragazzi, mi è apparso una nuova cosa qui, è il tempio. Praticamente c'è un tempio nel quale dobbiamo andare, ma prima direi di depositare tutte queste cose che per ora non ci servono, tipo gli smeraldi. Ah, no! C'era Aerobrine, vero? Abbastanza certo che c'era Aerobrine, ragazzi. Ormai purtroppo Solar, peraltro guardate Solar, guardate qua quanto è brutto, ma quanto diavolo è brutto? Oh, ah, c'era, era rì. Ragazzi, mio Dio, Solar sta facendo sempre spawnare Aerobrine in questo dannato mondo. Chiudiamo tutto e andiamocene al tempio, cerchiamo di finire le cose. Ragazzi, peraltro io non so chi diavolo mi sta mettendo. Tutte queste cose all'interno di questi portali. E questo è il tempio, vedete? E qui, allora, siamo nella giungla, infatti è il tempio della giungla. Peraltro lì c'è pure un tempio sotto la sabbia e lì c'è pure il mare, ok. Allora, qui invece c'è appunto questa cosa qui ed è il libro degli obiettivi. E mi dice subito di trovare l'oggetto maledetto di questo posto e distruggerlo. Fai presto. Ragazzi, io non so quale tipo di oggetto maledetto lui intenda, però probabilmente capiremo quale tipo di oggetto c'è qui all'interno di questo tempio. Che mi sembra che abbia già cose abbastanza strane. Oddio, perché è tutto blu qua? Beh, vai a capire. Comunque, adesso probabilmente dobbiamo esplorare meglio questo pond. Aha, vedete? E qui sotto si scende. Peraltro, se notate, è rosa questa torcia, quindi è cambiata, cioè è un po' particolare come cosa. Quindi bene, meglio così. Andiamo avanti. Allora, qui... Oh, ci sono le pressure plate. Attenzione, ragazzi. Qui ci sono le pressure plate. Qui ci muoio palesemente. Ho paura di andare, in effetti, da queste parti, perché non vorrei mai schiacciare tipo le pressure plate. Ok, allora direi di andare da questa parte qui e quindi stare attenti a tutte queste cose, perché... Porco sbirillo! Credo che qui, purtroppo, ci uccidino male, quindi cerchiamo di scappare! Via! Ok, non è successo molto, in effetti, eh. Ok, andiamo da queste parti. Allora, ah, vedete? Qui si scende. Perfetto, mi piace questa cosa che si scende, perché praticamente scendendo noi possiamo trovare gli oggetti nascosti di questi posti particolarissimamente bellissimi. Oh, guardate qui! Cos'è che c'è? Oh, una spada! Aspetta, 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 aspetta. Allora, questa spada sicuramente è più forte della mia spada di ferro. Attack damage, e vedete, fa più danno. Cosa sono tutti questi oggetti? Gold ring. Praticamente questo è un anello d'oro, e non so che cosa sia. Comunque, fatemi vedere la spada. Oh, wow! Ma che bello! E si carica anche... Ah, ok. Eeeh, che bella! Attenzione, dobbiamo togliere... Cosa sta succedendo? Oh! Oh mio Dio! E qui... Ok, per fortuna abbiamo visto questa trappola, se no ci finivamo proprio dentro. Vabbè, sapete cosa faccio? Adesso faccio questa cosa qui. Che cacchio me ne frega, via! Uhuh, abbiamo vinto! Ragazzi, cos'è successo qui? È cambiato tutto quanto. Vabbè, prendiamo questo coso, va? Questo è un po' di smeraldo. Oh mio Dio, è di nuovo tutto buio. No, 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 buio! Cos'era? È tutto troppo buio. Tutto, tutto troppo buio. Mettiamo le tor- Mettiamo le torce, eh! Bene, così. Cos'è? Ah, ok, perfetto, si continua. Cerchiamo di non premere le pressure plate che sono pericolosissime, assolutamente, da non premere le pressure plate perché poi possono scatenare qualche cosa strana che non vogliamo, tipo qualche meccanismo molto brutto. Ok, andiamo avanti adesso. In teoria qui, cos'è che c'è? Allora, queste cose non sono assolutamente niente. Dobbiamo trovare quel coso perché probabilmente sarà all'interno di una chest, immagino, ma non ne sono proprio certo, eh. Immagino sia all'interno di una chest o qualcosa di questo tipo, perché vi ricordate quella volta quando siamo andati e c'era un meteorite caduto? E all'interno del meteorite era l'oggetto, però era dentro una chest, quindi immagino che sia la stessa identica cosa. Allora, qua abbiamo trovato un altro di questi blocchi di smeraldo, molto utili, perché poi, sapete, con gli smeraldi possiamo commerciare con i villager. Allora, qui io, ragazzi, sto vedendo, in effetti, una stanza molto grande. Ricordiamoci di non cliccare su niente, perché ogni volta che si cammina dentro questi tempi è sempre pericoloso. Mmm, aspettate un attimo, non è che bisogna tipo versare, butto un attimo queste cose, tipo versare uno smeraldo qui all'interno? Aspettate, prenderò questo smeraldo che c'è qui, forse è una pessima idea, perché siamo all'interno di un tempio. Però, toh, eh, ha funzionato, what? Mmm, non lo so, è strano, ragazzi, perché in effetti, avete visto, lo smeraldo è scomparso, non è che l'ho preso io. Ah, vedete, qua c'è una tramoggia, e dove porta? Mmm, non ne ho la più pallida idea, questo posto è veramente strano, è misterioso. Ah, ok, allora, qua c'è pure una chest. Allora, l'incantesimo di olio, tipo, mmm, non mi è chiaro che cosa esattamente sia. Basic machine frame, questa è tipo una cosa per una macchina, tipo, vabbè, ma non, non so cosa voglio dire qua, dei diamanti boni. Ah, questa è la bomba, la bomba, ragazzi, è utilissima. E un altro anello, sentite, ma, allora, gli anelli, aspettate un attimo, io l'anello posso equipaggiarlo, tipo, dov'è che potevo, eh, qui, forse, no, qui? Beh, così, ah, ok, perfetto, l'ho equipaggiato, in effetti. Oh, vabbè, comunque, utili gli anelli, sono sarcastico, chiaramente, qui dentro che, caspita, c'è? Oh, mio Dio, è tipo una pozza di acqua che arriva da lì sopra, e non voglio sapere cosa ci sia lì sopra, però qua, questa cosa, sono sicuro che c'è qualcosa qui, ragazzi. E, infatti, perché qua è tutto identico, se vedete, tutto quanto identico, e poi in questi due punti dove c'è questa cosa, mmm, sapete cosa faccio io adesso? Butto un attimo, tipo, qualcosa, vabbè, i diamanti per ora va bene, e faccio gli smeraldi, ok, adesso ho ripreso i diamanti, in teoria. Allora, butto gli smeraldi, uno, due, tre, quattro. Allora, era abbastanza chiaro, cioè, dovevo sbuttare tutti gli smeraldi, però di fatto non sta succedendo niente. Ah, oh, si è aperto, avete visto? Wow, era proprio così, era proprio indicato di buttare gli smeraldi. Oh, 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 fermi tutti, aspetta un attimo che, eh, ehm, illumino tutta questa parte qua. Allora, sto mettendo tutte le torce così, perché ho visto qualcosa di veramente interessante qua, ragazzi. Ho visto qualcosa di veramente, ma veramente interessante. Allora, no, mettiamo però altre torce. Così, così, ok. Allora, sto illuminando tutto quanto, perfetto. Ragazzi, ragazzi cari, tecnicamente questa cosa è la cosa maledetta che dobbiamo trovare. Questo trattasi di un diamante, però maledetto, un blocco di diamante maledetto, dalla leggenda di Herobrine. Vedete la mod sotto? C'è scritto The Legend of Herobrine, che significa proprio in inglese, la leggenda di Herobrine. E quindi, mmm, forse l'avrà messo Solar Queen, e sono certo, ragazzi, proprio perché è lui che si ingegna con tutte queste cose. Però adesso che abbiamo pure Herobrine, appunto, nel mondo, non è che pure lui adesso si sta facendo dei piani suoi per distruggerci il mondo. Questa cosa qui, ragazzi, credo che sia l'altare dell'Eldrich. Ma tipo arriva dalle profondità dell'Inferno. È una cosa particolarmente strana. E questa cosa, mmm, un sacco di smeraldi e di cose, che bello, bene. Almeno abbiamo guadagnato un bel po' di cose, ragazzi. Potremmo anche farci l'armatura in diamante, per caso. Questo blocco di diamante maledetti, vedremo che farcene. Sentite, io spacco anche qua, perché non dovevo spaccare, non dovevo, non dovevo, non dovevo, non dovevo, non dovevo. Aiuto, 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 aiuto. Qua ogni cosa uccide e morde, pure i blocchi di pietra, pensate voi. Madonna. No, 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 no. Che caspita, è un'infestazione questa cosa. E poi c'era anche Aerobrine, che è la cosa che tecnicamente è la peggiore. Ma a me fanno più paura gli scarafaggi, se permettete. Quindi adesso me ne vado via da qui. Che schifo, che schifo. No, 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 ragazzi, ragazzi, che diavolo. No, 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 via, 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 via. No, 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 no. Gli scarafaggi mi stanno uccidendo, ragazzi, aiuto. Tranquilli, eh, non sono veri scarafaggi, sono pesciurini d'argento. Questi qua si chiamano proprio così. Infatti si chiama Golden Fish. Cioè, no, tipo... Tipo... Non mi ricordo come si chiama, scusatemi. Veramente non mi ricordo. Però qui andiamo avanti. Ok, ragazzi. Allora, ho inserito di nuovo la shader. Perché secondo me è più carina così. Cioè, mi avevate scritto anche che era più carina. Non so, ditemi di nuovo nei commenti se volete le shader che illuminano tutto quanto molto bello. Sapete, c'è la luce bella, l'acqua bella. Adesso, ragazzi, apriamo il nostro libro, la nostra guida. Come ben sapete, quindi, in questa guida ci dicono praticamente tutte le cose che ci sono. Tutti gli obiettivi, vedete? Queste sono le spade dell'abisso. Robe assurde. E dobbiamo completare tutti questi obiettivi per sbloccare tutte queste altre cose. Ricordatevi che l'obiettivo finale deve essere quello di sconfiggere Solar dal nostro mondo. Proprio distruggerlo completamente. Allora, qui praticamente, però, io avevo una cosa. Praticamente noi possiamo fare addirittura i rituali di magia. Che a me queste cose interessano sempre tantissimo. Perché sapete come sono bellissime da capire. Sono molto intriganti. Allora, devo avere però il libro delle ombre. Ok, perfetto. Ho iniziato a sbloccare questi obiettivi, vedete? E qui mi stanno dando anche degli oggetti molto utili. Dice di ottenere un'arma unica. E le armi uniche... Oh, te le fa vedere tutte qua, ragazzi. Assurdo. Dobbiamo andare ad ottenere una di queste armi. E come si fanno ad ottenere? Tutte queste armi, peraltro, hanno anche effetti speciali come quello che avevate visto prima. Queste armi ci servono necessariamente contro Aerobrine e tutti gli altri. Ne abbiamo una abbastanza carina e speciale. Però ne possiamo avere molte di più di queste armi. Bellissime. Quindi, l'unico modo per poter trovare le armi è andare, ragazzi, a cercarle insieme. Oh, che caspita è? Assurdo! Cos'ho trovato qui, ragazzi? Allora, ricordiamoci che però non possiamo perderci in chiacchiere. Anche perché qua, purtroppo, c'è Aerobrine. E Solar, che ciao, ben ritornato, che è qui dall'alto, che ci spia e che ci guarda sempre con il suo ghigno e il sorriso malefico. In teoria, quindi, in questo mondo dovrebbe far freddo perché, peraltro, uno dei commenti aveva scritto una teoria molto interessante, ragazzi. Aveva scritto tipo, Dunice, secondo me Solar fa sentire freddo alle persone perché le persone hanno paura, quindi diventa freddo. Ho detto, potrebbe benissimo essere, ottima idea. Ok, ho rimosso tutta l'acqua da qui, così almeno possiamo ritornare su appena riusciamo, appena finiamo. Perché qui dobbiamo, appunto, controllare tutte le cose dei templi, delle cose che troviamo, ragazzi, perché ci servono armi particolari. Eccoti. Aspettate, aspetta, aspetta, sto trovando cose molto importanti. Questo è importantissimo, eh. Questo è il libro degli incantesimi. Ah, e dice che, ok, dice che già conosco questo incantesimo, perfetto. Ok, questa è una di quelle cose che servono per, pèm, combattere tipo tantissimo. Eeeh, che bello. Cacchio, fa 7 di attack damage, molto di più di una spada in diamante. Wow. Se noi schiamiamo qua sotto. Ma di fatto non c'è niente qua, ragazzi. Ma io mi ricordavo che ci fosse. Va, che strano. Vabbè, allora, ritorniamo sopra, va? Così almeno, mmm, ok. Ok, perfetto. Oh, ecco qua, che bello, comunque. E soprattutto adesso, ragazzi, devo andare per forza lì. Perché, eh, se no, veramente non capisco che, caspita, è questa cosa. Anche se... Ma ragazzi, ma guardate lì. Ma è una piramide enorme. Assurdo, assurdo. No, aspetta, craftiamoci una barca, va. Perché se no, così, eh, ci mettiamo troppo. Quindi adesso io prenderei il legno che c'è qui. E ci facciamo una bella, bella barca, così. Perfetto, buttiamo per un secondo. Poi adesso la ripigliamo, ovviamente. Ok, mettiamo tipo all'interno di questa cassa delle cose che non ci servono. Tipo queste cose qua che, beh, non capisco nemmeno perché le ho prese. Allora, no, ah, dammi, ok, perfetto. Andiamo avanti, forza. Su, 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 su per il nostro cammino. Guardate qua, c'è pure questa cosa. Allora, con calma e sangue freddo. Iniziamo, perché dobbiamo prendere le spade per sconfiggere meglio quel dannato Solar. E i suoi scagnozzi... Sus, non ci vado qui. Non ci vado lì, ragazzi. Ho paura che lì dentro cado e ci muoio. E poi dopo voglio capire io chi, caspita, mi fa... Mi salva da lì. Cos'è quel coso? Cosa diavolo sono queste cose, ragazzi? Ok. Andiamo a trovare tutti questi misteri. Mio Dio, guardate Solar che ci spia dall'alto. Che brutto che è. Però, ragazzi, io voglio capire cos'è questa piramide enorme. Perché, secondo me, qui si possono, in effetti, trovare armi a sto punto, ragazzi. Perché è enorme. Guardate qua quante... Che è successo? Oh? No, eh? Non ci provare. È successo qualcosa, ragazzi. Mi ha dato un effetto di fatica del minatore. Quindi, probabilmente, questa è per colpa della piramide, ragazzi. Secondo me. Da quel che ho capito. Perché dice... Ah, ho appena fatto pure un advancement. Che cosa succede in Las Vegas? Che non ho capito. Ah, questa sarebbe tipo Las Vegas. Ok. Allora, cerchiamo di capire cosa succede, in effetti, a Las Vegas, no? Siamo venuti a Las Vegas. Allora, cerchiamo di capire cosa succede. Allora, staremo qua sopra, davanti alla porta. What? Ma... Ma è bloccata? Oh! Scusa! Ah, ok, perfetto. Si rompe. E qui che cacchio c'è? Oh! Oh, oh, oh! Vedete? Ve l'avevo detto io che c'erano cose qui. Allora, in teoria, non c'è niente. Perfetto. No, ci dovrebbe essere qualcosa di utile. Ma dai, delle cose un pochino misere, secondo me, si poteva anche far di meglio. Però, comunque, non ci lamentiamo. Ricordiamoci, ragazzi, che questa cosa è importantissima. Tra l'altro, questa struttura vola per un qualche motivo. Vedete, quando ci avviciniamo alla cosa qua, alla piramide, purtroppo non possiamo scavare. E stavo dicendo, ricordiamoci, ragazzi, che è importantissima questa cosa. Noi dobbiamo trovare armi e comunque magie, bacchette. E quindi questa fase di esplorazione in giro ci serve per diventare sempre più forti contro Aerobrine e contro Solar. Anche se mi fa un po' paura, onestamente. Perché qui noi sappiamo che Aerobrine ci sta dietro. Ci spia sempre da... Peraltro, scrivetemi se voi lo trovate nei commenti. Perché secondo me voi lo vedete meglio di me. Perché magari io sono concentrato nel video per fare altro. Invece lui appare sempre, praticamente. Allora, questo è un villaggio abbastanza normale. Non direi che... Oddio, è normale? Insomma. Ma guardate quanto è grande! Porca vacca, ragazzi! Ma quanto è grande! Ma guardate qui! Sì, vabbè, ma poi Solar è di un'inquietudine. Poi ricordiamoci anche la strada per tornare al templio. Perché poi lì abbiamo il waypoint che ci teletrasporta a casa. E però lì ce l'abbiamo. Madonna ragazzi, ma è enorme! È enormissimamente grande! Ok, facciamo così. Cerchiamo di tradare con i villager. Magari ci sono delle cose utili che ci danno. Ecco, tipo questo qua? No, questo qua? Nemmeno. Ciao, tu mi dai cose utili? Vabbè, l'armatura in ferro, se permetti, l'abbiamo superata. Non ci serve più. Un cappello, guarda, non ho bisogno del cappello. Però, un letto, se permetti, me lo prenderei. Ahia, sono caduto. Cos'è? Ha un cammello, che spavento! Cos'era? Ragazzi! Ragazzi! Oh Cristo santo! Ma ti sposti il cammello? C'è aerobrante davanti. Che cosa? Perché non si sta sparendo? Guardate lì! Mi sta guardando! Ma quindi, avete sentito quel rumore di prima? Era aerobrine per caso? È sparito di nuovo? È sparito, vero? Eh sì, eh! Eh sì! No vabbè ragazzi, assurda sta cosa. Non possiamo restare la notte in giro con aerobrine che ci sta dietro e che ci vuole far fuori. Probabilmente. Quindi, quello che dobbiamo fare, almeno in teoria, è dormire. Quindi, adesso andiamo a dormire, tipo in uno di questi lettini qua che ci sono, tanto i villager... Adesso blocco la porta, così almeno non... Ok. Facciamo così, così almeno non entra nessuno. Ok, dice che posso dormire solo alla notte. In teoria fra poco arriva notte, quindi non dovrebbe esserci nessun problema. Però, caspita, io voglio capire, ma ragazzi, ma cosa sono queste cose? Cioè, adesso ci andiamo, però... Assurdo, ma sono enormi! Ma poi, non è nemmeno questo la cosa che mi preoccupa in questo momento. La cosa che mi fa veramente preoccupare è che Aerobrine, avete visto, è proprio qui. E per questa volta ha fatto pure una cosa molto strana. Di solito lui scompare immediatamente, proprio all'istante. Invece stavolta non l'ha fatto. Perché non l'ha fatto? Perché non è scomparso? Perché è restato lì a guardarci? Questa è un'ottima domanda da farci, da porci. Quindi io direi di metterci a dormire. Cos'è successo? Ok, perfetto. Adesso abbiamo dormito e quindi la notte non dovrebbe essere più un problema, in teoria. Giusto. È giorno, è mattino. Perfetto. Adesso andiamo da questa parte e continuiamo ad esplorare queste cose. Come abbiamo detto, ci serve davvero, davvero, trovare nuove armi. Perché se avete visto Aerobrine prima era abbastanza strano, un po' diverso dal solito. Dunque guardate la luce che bella che, cioè, attraverso l'acqua, è diventata azzurra. Ohè! Ehi! Ok, niente di chepe. Allora, oh, abbiamo trovato una spada. Vedete? Ve l'ho detto io che cercando, chi cerca trova, no? E questo è un po' l'obiettivo, chi cerca trova. Quindi, se noi cerchiamo, possiamo trovare armi utili, come abbiamo detto, no? Contro Aerobrine. In questo momento, Aerobrine mi fa un po' più paura di Solar. Anche se è stato lui a spawnarlo, a farlo di me, a farlo nascere in questo mondo strano. Quindi, io direi, sapete cosa? Saltiamocene qui dentro e ricerchiamo. Continuiamo a cercare tantissime cose. Ok, così. Siamo all'interno, in teoria, adesso. Ragazzi, qui... Qui sarà da ricercare tanto, eh. Qui è pericolosa la... Ecco, è pericolosa la storia. Appunto, ci sono degli spawner di... Cos'è questa cosa? Di mostri, tipo c'era scritto? Sì, proprio monster spawner... Eh, no, i pillager, cacchio! Cacchio! Via! Ah! Aspetta! Sbam, 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 sbam! Ok, l'ho rotto, l'ho spezzato il... Madò, l'ho rotto tantissimo, ragazzi, con questa spada. Giusto, l'ho ucciso o no? No, è sceso, porco due! Che cacchio è? Oh! Oh, via, 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 via! Sbam, 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 frega niente! Oh, no, 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 rotto, mi sono rotto le gambe... No, 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 ragazzi. No, 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 no. Porco di quello schifo! Porco spino! Ok, cerchiamo di scendere adesso. Eh, brutto! Brutto brutto cosa sei tu Ragazzi cos'è questa Siamo in gabbia Siamo in gabbia No Porco di quello schifo Porco spino porco spino Ma non è possibile ragazzi Ok siamo all'interno qui non ci può fare niente nessuno va Ve l'ho detto dobbiamo diventare più forti Più forti Ragazzi spero che questa avventura di solar Vi stia piacendo sempre di più Perché a me sta piacendo davvero tantissimo Seguitemi chiaramente se vi piace Passate anche sul nostro discord se avete voglia Il link è nella descrizione Magari qualche volta se ho tempo entro sul discord Ah e chiacchieriamo insieme Al prossimo video ciao